Curioso anche che questi artisti nel momento in cui si sono misurati con la Divina Commedia non solo si sono limitati a illustrare in una tavola l'idea che loro si erano fatti del poema e poi in altre tre tavole le illustrazioni specifiche di ciascuna delle tre cantiche ma è curioso che abbiano anche recuperato i capolettera il recupero del capolettera è un altro fatto singolare che va tenuto presente perché nel recupero del capolettera c'è evidentemente il riscatto di una dimensione anteriore alla copia della Divina Commedia stampata e un ritorno a quella che erano i manoscritti non dico quello di Cristoforo Landino ma quelli che cioè si sono iniziati appena subito dopo la pubblicazione della Divina Commedia, il licenziamento del poema da parte di Dante da parte degli amanuensi, gli amanuensi evidentemente riproducevano, hanno riprodotto questo poema a mano quando come vi dicevo Gutenberg inventa i caratteri mobili e i caratteri mobili naturalmente ti danno la possibilità proprio di divulgare in copie illimitate il prodotto che non è più affidato alla mano evidentemente i caratteri mobili privilegiano l'occhio perché è l'occhio che sostanzialmente legge il carattere che si pone davanti allo sguardo invece l'amanuense era sì conquistato e in qualche modo condizionato dall'occhio ma soprattutto l'amanuense sentiva ancora la voce di Dante pensava di interpretare la voce ed allora è curioso che questi artisti nel riprodurre anche i capolettera del poema si sono cimentati con questa singolare attitudine che è quella proprio di cercare di interpretare e di immedesimarsi all'interno di quella che poteva essere la voce di Dante e questo mi sembra che sia uno degli esempi più singolari tra le varie e le tantissime sperimentazioni che l'arte contemporanea fa nella sua storia si possono dire tante altre cose a questo riguardo perché evidentemente questi artisti non si sono mai tutti questi artisti che abbiamo poco fa enumerato non si sono mai misurati in maniera filologica con una genealogia delle illustrazioni della Divina Commedia non c'è traccia di nessun artista che li abbia preceduti che possa ritornare nelle pagine che vedremo in questa mostra si tratta però di qualcosa che invece supera il confine cronologico della genealogia e del rapporto linguistico con artisti precedenti e abbraccia invece un sentimento, un trasporto talmente forte che è proprio il trasporto che si può avere soltanto quando sentendo il fremito che deriva dalle pagine di Dante può occupare anche la sensibilità di un artista ecco perché vi dico che questa mostra dovrà essere a lungo approfondita perché rappresenta una antologia di una modalità inedita di concepire la modernità in rapporto all'eternità del tempo e all'eternità del poema dantesco e all'eternità del tempo